9 guardatele se vuoi dai guardatele per figure non le guardo ho vinto ho vinto Luca, fatta la set si, check no, schifo vuoi smarzzare ancora? no, no che figlio sono due io sono due a capasso lui ha giocato oggi ma ha girato tipo io ho visto tipo due trigger in tutta la partita lui dal grado 0 al grado 1 ho fatto draw tutti check draw, critico oh, critico oh, sono assaggiato un 2 draw ma cosa? sono i bimbi la cosa fastidiosa che lo facciava con un'altra ragazza come se sapesse che è possibile che era l'orita va bene questo è un 3 3 chi iniziava? inizia no, no sennò non è no, spera no, inizio no, di figlio ne fa la 9 scusate pescoporte pescoporte c'era 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 oh, no non passa almeno è quello ormai non è un'idea vai devo metterli qua ok, io ce l'ho ok da quando quello queste due attivo altre in smersi ok peschi una carta e dai tutto più una carta 8 testo andiamo a check niente vai pesco uno cazzo sempre il mio del colgione va bene va bene va bene posti non gado niente ce l'ho petto ahhh mi ricordavo più va bene va bene va bene va bene va bene nanor critica vai stando adesso si le botte dai col col 5 prossimi 12 10 vanguard vai critico più 5 5 azz ma ci arrivo 17 5 6 17 c'è un danno basta c'è una carta c'è 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 10 vai adesso metto dentro 2 1 12 1 11 però non ti parto tutto il acento non parto un cazzo sono solo 12 vieni tanti in mano quant'è niente 1 2 1 1 4 5 5 6 6 6 6 6 6 e dai 10 5 6 7 8 8 9 10 6 7 8 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 troubles anzi no aspetta 13 peccatori No, va bene, dai, 23 dopo 15. Grazie a me. Sì. C'era perso, mi ha detto. Qualcosa che parte? Non è la verba, mi ha detto. Non è la verba, mi ha detto. 21. 21. Niente. Niente. Non lo ammazzate con il... 18. Allora, come solito, hai cose molto grandi, io non posso farvi niente. E io, ecco, va bene, tu, perché si trattivo, muoio solo loro. Esatto. Limit pure i tu. Esatto. Non di mano, non di mano, c'è praticamente sì. Non tiro mai, eh? Tutti i miei sono. Tutti i miei sono, cioè, quello con me non tre. Ma non mi ha detto un cazzo. Non sono questi tre. No, no, ma quella è che si è riuscita. Vabbè, se io non... Ah, ma questo è questo qui. Vai, vai, se io non tiro un tiro sopra se, al tre, perché se andassi sopra se... Quanto, cinque e parla anche tu è ancora. Tu hai fatto. Quanto? Quanto? Cinque e parla anche tu è? Tu hai fatto? Quanto? 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 Cinque e parla anche tu? Tu hai dato. Non difendi, ma? שלCy. io ho chiuso due volte con la magia da serie non l'ho mai visto lui e non l'ho mai visto come si chiama? alto a destra quanto è? 12, 18, 21 non l'ho mai visto né lui e non l'ho mai visto il cicciole blu che cambia 21 Vanguard no, no, io non capisco com'è cioè, Davide, guarda che quel lozzo lì se non sono di ridotta chi vuole tutte le carture perché se te c'è un po' più, non lo avremmo dire 2 è passato no, perché quella c'è non è un ventuno, eh? tu, questo è quando c'è lui qui più uno? tu ti ci vuole, non ne senti cosa ha mai visto? niente? ah, tu è vero? tutto di qua? ah, molto grazie, Davide 23 doppio pezzo mi posso divertire già con i miei tre? senza problemi vabbè sì ma che posso rimanere? ma scogli a ogni cosa? non lo vuoi fare? non lo vuoi fare? allora, non lo vuoi fare? ma fate la morte non lo vuoi fare? perché alcune sono scogliate? non so non so no, no, posso c'è la sconfezione? c'è la sconfezione? c'è la sconfezione? c'è la sconfezione? sì, sì, ce ne sono tolgo un galgo? serio? ah, mi stanno sentendo? va bene? va bene? allora, stapparlo ok devi ritirare ecco, se potete riterare adesso sono un po' non vale ti ripicchio arriva un pezzi così ci sta scusate, 16 sempre 2 più 1 tanto fa punto la garanzia oh, mio Dio! sì, basta sì, questo qua 20 20 ah, vai vai no guarda che metti i banni uuuuh scusate ma non c'è schiga? no, quando leggo slide sto matto che non c'era qua ah, figa, è proprio sfibata dopo che lascia calzante dopo, dopo perché ti ho tendenza a mettere il ragazzo sulle slide la sconfezione ha detto slide lì? io la faccio vede? no, come dirò? come dirò? come dirò? come dirò? come dirò? come dirò? un po' di gay duvido ti vuoi? io ok c'è? c'è? come dirò? c'è un po' di rossi vado ti vuoi? sì, a partidina dai eth ma che ho? Luca, sei in casa lo uso io adesso che lì? che lì? per che lì? i vieti, eh? no, no no a non per dire buono